Diamo il benvenuto alla nostra importantissima e attesissima ospite che è la professoressa Ornella De Pità, dermatologa, anzi top dermatologa, responsabile della ricerca clinica dell'IDI, Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Grazie Ornella che hai accettato il nostro invito, grazie che sei qui con noi e la prima domanda che vorrei farti perché tutte le persone che ci stanno seguendo vorranno sapere tutto di te, della professoressa Ornella De Pità. Quindi raccontaci Ornella, quando nasce in te la passione per la dermatologia? Tu studentessa in medicina, ti lauri in medicina, però poi succede qualche cosa, scocca qualche cosa per cui dici la mia vita sarà dedicata alla dermatologia. Ma anche la dermatologia speciale e poi tra poco lo vedremo, di grande ricerca, immunologia. Ma cosa è successo e come è avvenuto che poi tu hai deciso di fare la dermatologa? Intanto io ti ringrazio moltissimo Antonino per queste due bellissime parole nei miei confronti. come nasce? In realtà nasce non immediatamente. Finisco a medicina, entro e già lavoravo nella clinica medica alla Sapienza di Roma, entro in ematologia che era il mio sogno. Quello volevo fare, c'era il professor Mandelli in grande espansione in quel momento, finché un giorno il professor Mandelli, finita io la specializzazione e lavoravo all'interno dell'ematologia, mi dice bisogna cominciare a tensionare i linfomi cutanei e quindi la cute comincia a entrare nella mia vita. E così è iniziata. Il professore era molto amico del nostro direttore storico, il professor Cavalieri che credo tutti conoscano, mi manda all'IDI e lì inizio il mio percorso. Comincio ad affezionarmi a queste, intanto alle patologie portavamo avanti tante ricerche. Siamo stati tutti insieme i primi a mettere le terapie innovative sui linfomi cutanei. E quindi il professor Cavalieri una sera mi chiama e mi dice devi restare qui, non devi tornare più di là, devi restare qui. Ho capito il tuo valore, ha detto questa fa parte della mia squadra adesso. E mi dice ti mettiamo su un laboratorio, dimmi che cosa dicete, ti serve? Mettiamo in piedi la prima citoflorimetria proprio per i linfomi cutanei che poi è stata utilizzata per tante cose. devo dire mi hanno dato tanti spazi, l'IDI per me è stata casa e inizia così. A quel punto poi mi ritrovo dentro la dermatologia e qualcuno mi dice ma a questo punto non puoi non fare la dermatologa perché sei nel tempio della dermatologia. E quindi inizio la mia specialità in dermatologia. Sono rimasta lì per tanti anni, abbiamo portato avanti tante ricerche, abbiamo messo in piedi i laboratori di ricerca e l'IDI poi diventa un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, grazie anche a tutto quello che il professor Cavalieri aveva fatto sulla genetica. Abbiamo messo in piedi dei laboratori di ricerca, abbiamo fatto tante cose e così nasce la dermatologia. Poi questa dermatologia mi aveva tanto preso che entriamo anche nelle associazioni e quindi associazioni non solo di pazienti ma le nostre associazioni scientifiche. Quindi mettiamo in piedi l'ISPLAD 25 anni fa e peraltro in questo percorso c'è anche tutto il periodo bellissimo che ho trascorso all'interno della DOI che è un'associazione di dermatologi ospedalieri perché poi lì di un ospedale dove ho fatto praticamente tutti gli incarichi fino a presidente e subito dopo poi il presidente dell'ISPLAD che è stata veramente una cosa molto bella perché mi ha portato in un'altra realtà, in un altro panorama che era quello di poter applicare alle patologie il benessere dell'acute e qui nasce la nostra storia. Certo, certo, sì e infatti tu sei tra le fondatrici dell'ISPLAD quindi questa associazione che raccoglie oramai più di duemila dermatologi anche dall'estero e che si dedica soprattutto alla ricerca, alla formazione e alla informazione di tutto ciò che riguarda il benessere cutaneo quindi come far vivere la pelle più sana e più giovane a lungo ma soprattutto sana e quindi preoccuparsi partendo dalla patologia come poi migliorare tutto l'aspetto cutaneo e questo dimostra anche la tua lungimiranza, il fatto che tu sei una dermatologa poliedrica ecco, non sei a un comparto stagno e quindi in questi 25 anni ti sei dedicata anche a lo studio di tutto ciò che può essere importante per aiutare la pelle durante la malattia, la patologia invece a ritornare integra, a quello che è l'accettazione migliore di sé. Tu parti dall'immunologia, riesci a spiegare a chi ci sta seguendo in modo molto semplice cos'è l'immunologia, perché se ne parla, molti leggono l'immunologia, ma cos'è lo studio dell'immunologia? Cioè quando tu dici io mi occupo dell'immunologia cutanea e della pelle cioè in realtà che cosa fai? Cosa vai a ricercare? La pelle è colonizzata da numerose cellule, cellule che danno risposte di tipo immunologiche pensiamo ai linfociti, che sono una cellula importante che arriva sulla cute ad esempio a causa di dermatiti o di psoriasi, perché ci sono delle alterazioni di questi linfociti e qui siamo nell'ambito della risposta immunologica che arriva sulla cute, ma anche delle cellule proprio che preparano la risposta, si chiamano cellule di Langeratz, sono importantissime perché parlano tra, permettono il contatto tra la cute e questi linfociti che poi risponderanno quindi la cute è un organo immunologico e quindi noi possiamo utilizzarla per capire i meccanismi che causano queste patologie e tentare appunto poi di migliorare il percorso della malattia stessa modulando la risposta immunologica. Certo e ci sono patologie di grande impatto dal punto di vista dermatologico legate anche alla risposta immunitaria, alla luce soprattutto poi delle nuovissime terapie, i farmaci biologici che puntano e vanno in quella direzione e stanno risolvendo molti problemi. Quali sono le patologie più frequenti che tu vedi come dermatologa immunologa? Partendo forse da quella per eccellenza che è la reazione allergica perché parla di immunologia e anche allergologia, infatti tu sei considerata tra le star della immunologia allergologia dermatologica. Com'è la situazione adesso di tutte queste patologie? Cioè a oggi 2024 quali sono le patologie più importanti che tu ti senti di poter mettere tra le top, ecco quelle più importanti, più frequenti? Allora io da sempre mi interesso di dermatologica perché è proprio l'applicazione della parte immunologica alla dermatologia, quindi tutte le dermatiti, tanto per essere chiare, le orticarie, patologie frequentissime, ma se vogliamo dare un senso storico a questo percorso diciamo che la prima patologia che ha beneficiato di un intervento di farmaci innovativi è stata la psoriasi, ormai più di 20 anni fa, quando è cambiato il mondo del paziente psoriasico con l'avvento dei nuovi farmaci definiti biologici appunto, che poi si sono modificati, sono aumentati, sono diventati sempre più specializzati, quasi sartorializzati rispetto al paziente. Oggi noi abbiamo dei farmaci precisi che diamo e indichiamo per quel tipo di paziente, sicuramente quindi la psoriasi è stata la più attenzionata tra le patologie infiammatorie di tipo immunologico da tanti anni, proprio per l'avvento di questi farmaci. Ci sono stati tanti studi, abbiamo considerato il paziente, tutte le sue comorbidità, perché ricordiamo la psoriasi non è solo cute, milioni di persone in Italia ne sono affetti quasi due milioni, un milione e otto, due milioni si dice, molti di questi hanno delle comorbidità importanti, pensiamo all'artropatia psoriasica. Ricordiamo proprio così, tre secondi, come si manifesta la psoriasi per chi non è affetto e quindi non la conosce ancora, innanzitutto specifichiamo che non è contagiosa, quindi assolutamente no, pericoli nei rapporti personali con chi ha la psoriasi, ma come si manifesta? Il paziente comincia a vedere delle lesioni sulla cute, anche in età giovanile, diciamo tra i 20 e i 40 anni è frequente che possa capitare questo, parliamo di due milioni di persone, squamose, squame che poi si libera questa forfora, anche proprio viene eliminata questa prima parte di velle diciamo, sono squame rosse, arrossate, come se la cute si spessisce e poi viene in qualche maniera rilasciata, c'è un aumento del numero delle cellule che corrono, è come se corressero andare verso la superficie e poi vengono eliminate, possono essere piccole zone, le classiche sono gomiti, ginocchia a livello sacrale oppure può essere molto diffusa, la psoriasi ha forme lieve e forme molto importanti e molto invasive che non solo appunto colpiscono la cute, ma possono colpire anche altri organi, ecco parliamo dell'artropatia psoriasica, 35% dei pazienti con psoriasi ha questa forma, quindi è importante trattare. Certo, e l'importanza anche di questi nuovi farmaci che ha rappresentato una svolta, ma una svolta è avvenuta anche recentemente per la dermatite atopica, un'altra patologia di cui tu ti occupi in maniera particolare, da sempre direi come dermatologa immunologa, ecco la dermatite atopica anche qui proprio pochi secondi per inquadrarla che è una forma piuttosto frequente e comune. Anche più frequente della psoriasi, è frequente soprattutto in ambito pediatrico e questo crea grandi disagi non solo al bambino, ma soprattutto alle famiglie che vedono questo bambino che ha queste lesioni sempre più invasive, pruriginose, arrossate, a volte sudanti, quindi eliminano liquido, fastidiose, che non gli permettono di dormire la notte, che non gli permettono di stare negli ambienti sociali, quindi è estremamente imbarazzante per il bambino, ma anche e soprattutto proprio per le famiglie. Però per fortuna oggi stavi dicendo che oggi invece riusciamo a debellarla con più facilità. Con molta più facilità, c'è da dire che siamo partiti con le terapie per gli adulti, sempre queste terapie di tipo biologico, quindi molto innovative, perché ci siamo resi conto che anche nell'adulto stava molto aumentando questa patologia, ma oggi abbiamo farmaci che possiamo applicare anche in età pediatrica e questo diventa importantissimo per bloccare poi l'evoluzione. Sì, ma io ci tenevo oggi ad averti qui con noi perché io e te abbiamo dato vita ad un importantissimo congresso che questa mattina si è concluso a Milano ed è il primo congresso ISPLAD, quindi dell'Associazione dei Dermatologi Plastici e Rigenerativi a Milano, quindi il primo congresso di dermatologia rigenerativa Skin Longevity, quindi questo nuovo concetto che noi stiamo portando avanti, abbiamo introdotto, di allungare la vita della pelle in salute, quindi ci stiamo contrapponendo un po' al vecchio concetto secondo noi che è quello dell'antiaging, ecco non si può dire più antiaging, non si può pensare di fermare l'età, fermare il tempo. E allora noi come dermatologi dell'ISPLAD, come dermatologi che siamo orientati verso questo tipo di approccio abbiamo cominciato a parlare di Skin Longevity e appena terminato il primo congresso di dermatologia rigenerativa dove la rigenerazione è al primo posto, tra le cose che noi dermatologi dobbiamo fare, proporre ai nostri pazienti, è un grande successo, c'è stato un grandissimo afflusso, moltissimi medici ma anche farmacisti sono venuti, cosmetologi sono venuti e sono intervenuti a questo congresso, tra l'altro tu sei stata un'importante relatrice e hai animato queste giornate. Cosa pensi di queste iniziative? E soprattutto se fai un bilancio di questo congresso che si è appena concluso? Intanto direi altissimo livello scientifico, mi sembra una cosa importante. Altro discorso è stato l'apertura ai pazienti che devono essere formati nella maniera adeguata, quindi importantissimo da questo punto di vista, perché altrimenti il paziente prende notizia dovunque e questo non va bene. L'altro discorso è aver aperto questo canale nuovo in cui una volta che io ho una patologia, ho risanato la pelle, la devo mantenere sana per quanto riguarda le patologie e questo è un punto che abbiamo messo ben in evidenza, ma altre cose ancora sono proprio questo mantenere questa cute il più possibile sana, il più possibile giovanile diciamo se non giovane perché è chiaro che l'invecchiamento c'è, utilizzando cose scientificamente validate e provate. Pensiamo ai laser, pensiamo c'è stata tutta una sessione importante sui laser, interessantissima per come questi strumenti siano entrati nella nostra pratica clinica, quindi oggi noi abbiamo terapie, abbiamo supporti, abbiamo macchine che ci permettono di mantenere il paziente con uno stato cutaneo buono, valido, sano e questo è stato secondo me l'importanza di questo congresso e per questo è dando comunicazione scientifica valida, questo mi sembra la cosa più importante sia stata fatta. Quello che ci siamo sempre prefissi come ISPLAD e quindi come associazione di dermatologi di aiutare la pelle a restare giovane, a essere anche quindi sana soprattutto, quindi giovane sana perché se la pelle è sana dicono anche giovane, evitando il più possibile, anzi evitando in maniera proprio drastica tutto ciò che non serve ad aiutare la pelle a essere sana e giovane ma che la trasforma, quindi noi abbiamo detto e diciamo no alla trasformazione o alla deformazione con illusione di diventare più giovani, quello no perché visi gonfi o visi tutti che diventano delle maschere da circo non sono più visi giovani, sono visi trasformati sempre in peggio, sempre in peggio, quindi noi dermatologi stiamo cercando invece di dare una svolta e far sì che si crei questa cultura della pelle che deve essere mantenuta sana e deve essere mantenuta giovane in questo modo ma puntando sulla rigenerazione che è un po' tutto quello che è venuto fuori da questo primo congresso di Dermocosm e ci stiamo già preparando alla prossima edizione di Dermocosm, ci stiamo preparando anche ad altri incontri che come ISPLAD faremo in altre importanti città d'Italia senza dire ancora tutti i particolari ma anche a Roma cercheremo di dar vita a un importante momento che va sulla skin longevity, questo nuovo concetto. Ornella, i tempi purtroppo potremmo restare qui a parlare ancora per ore e io avrei tanto piacere strapparti una promessa di un tuo ritorno qui in trasmissione, qui con noi perché hai tantissime cose importanti e utili per i nostri ascoltatori e per chi ci sta seguendo. Senz'altro ti ringrazio e senz'altro perché abbiamo tante cose ancora da dire. Curiamola prima la pelle ma poi manteniamola anche sana e manteniamo sana anche quella che è già sana facendo questo mantenimento di una cute giovanile, luminosa che poi ci conforta quando ci guardiamo e quando guardiamo gli altri. Assolutamente sì, ci sarò. Va bene, grazie allora alla professoressa Ornella De Pità che ricordo è la responsabile della ricerca clinica dell'IDI, istituto dermopatico dell'Immacolata a Roma e vi aspetto per la prossima puntata di cosmetica e benessere. A presto!